Chi vi mostra il marcio in questa città? City Report! Chi chiami nel momento di difficoltà? City Report! Tra edifici abbandonati, quartieri vandalizzati, noi entreremo, ci siamo dentro! City Report! Ne attento ma dove vai? Le storie in città non finiscono mai! City Report! City Report! Cari amici di City Report, case popolari, oggi manifestazione dei cittadini e del sindacato, siamo in via Val Bavone, angolo via dello Storno, andiamo a vedere quello che succede e siamo qui, municipio 6. Eccoci arrivati, siamo al presidio dell'Ugnat, MM Case, per chi non lo capisce, case popolari del comune di Milano, questa è un po' della gente che è venuta a protestare appunto per le condizioni di inviabilità e tutti gli altri problemi che esistono nelle case popolari che sempre vi facciamo vedere. Adesso andiamo a cercare qualcuno che ci dica qualcosa e abbiamo già visto qualcuno, seguiteci. Presidio Uniat, case popolari MM, comune di Milano, siamo in via Val Bavone al 2, insieme a noi c'è il nostro amico Fausto Montrone che come sapete oltre che essere stato presidente della Commissione di Sicurezza, persona sempre attiva per le problematiche della gente nel comune di Milano. Ciao Fausto, un presidio molto nutrito di tanta gente, cosa succede oggi qui? Sì, Uniat ha organizzato questa iniziativa molto sentita dalla popolazione perché questo che era un fiore all'occhiello del quartiere e forse dei quartieri popolari a Milano, adesso è preda del degrado, ad occupazioni, sporcizia, cancelli, portoni rotti, insomma è una situazione incredibile, tapparello, insomma gli inquilini sono esasperati quindi come vedi nonostante i 30 gradi di temperatura... E infatti vediamo che nonostante oltre i 30 gradi c'è un sacco di gente qui, ma il problema di queste case non è seguito dal comune di Milano quindi sappiamo che dipende dal sindaco Sala, assessore Rabaiotti eccetera. Qual è il problema più grosso, cioè i problemi che evidenziano i cittadini qui e che non sono seguiti? Ma guarda, grandi problemi come in altre zone dove non ci sono, però la mancanza di attenzione, la mancanza di sensibilità del gestore e del comune di Milano sono allucinanti perché basterebbe poco per migliorare questa situazione, basterebbe veramente dar seguito alle istanze degli inquilini, alle richieste che non sono poi così gravose per l'amministrazione, invece c'è una totale latitanza e questa è la risposta della gente come vedi. Assolutamente, vediamo un sacco di gente come è normale che sia perché è giusto che il cittadino faccia valere i suoi diritti. Ti chiediamo, tu che sei un conoscitore delle situazioni delle case popolari, cos'è la cosa peggiore che succede in queste case popolari a parte il fatto, come penso di aver capito, la non risposta da parte degli organi competenti? Ma guarda, che sta rischiando di diventare una zona terra di nessuno, non c'è il controllo, iniziano a vedere gli alloggi vuoti per occuparli, insomma c'è questo lassismo veramente rischia di scatenare un'altra zona degradata e quello in inganni al 67 è ancora peggio, ci stavano quasi investendo, le macchine entrano e escono e basterebbe chiudere un cancello che è previsto dal regolamento e dalla sicurezza pubblica che venga chiuso. Basterebbero piccoli accorgimenti ma veramente per migliorare la situazione. Ecco, come avete potuto vedere non si richiedono opere milionari, Olimpiadi, Milano-Cortina, si richiede chiusura di cancelli, un po' di manutenzione eccetera. Adesso andiamo a sentire qualche altra persona. Siamo all'interno degli stabili MM, siamo qui con una rappresentante del comitato che adesso si presenta e ci spiega un attimino cosa succede e che cos'è questa bella madonnina. Allora io sono Fiorina Orsini e sono la rappresentante dell'autogestione di via Val Bavona 2 e niente qua la situazione di degrado è ormai arrivata al limite, qui non possiamo più vivere così perché qui in base a tutte le assegnazioni che hanno fatto io non voglio dire cose cattive però qui non si vive perché ognuno fa quello che vuole e come vuole e quando vuole, le regole qua non le rispettano specialmente gli ultimi assegnatari che sono arrivati perché qui è andato un centinaio di appartamenti e tutti a persone straniere che non hanno, non sono state informate delle regole da rispettare e quindi fanno tutto quello che vogliono. Diciamo che il solito problema dell'integrazione non fatta, arrivano qui pensano di essere dove stavano prima che magari non c'erano le strade, c'erano altri animali, c'erano altre situazioni di vita, qui non è così, questo è un paese civile, siamo in Milano 2021, uno stabile che fino a oggi è stato diciamo nella zona un esempio, uno specchio per tutti quanti gli altri, adesso sta perdendo qualche colpo proprio causa di queste situazioni qui, ma secondo lei la colpa principale di questa cosa che sta succedendo, di chi è? Di chi assegna? Secondo me di chi assegna l'appartamento, danno l'appartamento e vabbè è entrata, arrivederci e grazie, non controllano, non spiegano, non dicono cosa si può fare, cosa non si può fare, ci sono delle regole da rispettare e vanno spiegate, invece non dicono assolutamente niente, gli danno l'appartamento, lo danno a due persone e ce ne ritroviamo dieci. Ed ecco cari amici, questa è una cosa che ripetiamo ogni settimana, quando andiamo in giro per le case popolari, vengono date queste case, viene fatto firmare un contratto, praticamente nessuno lo legge perché non vede l'ora di entrare in casa e non sa magari che deve fare la raccolta differenziata, non deve fare i rumori oltre le dieci, non deve far scendere i bambini oltre un certo orario, non si lanciano i sacchetti dell'immondizia dai balconi, eccetera eccetera. Ecco questo forse sarebbe compito dell'istituzione che prima di assegnare un appartamento a determinate categorie che si sa essere estranei a quella che è la vita civile italiana, spiegargli un attimino di regole perché oltre che diritti ci sono anche i doveri, la gente paga l'affitto qui, non deve vivere in condizioni che non sono quelle della Milano 2021, che orecchie per capire capisca, poi vi forniamo anche i dettagli. Ed eccoci nel cortile, questo che era un gioiello del municipio 6, delle case popolari perché questa è ERP per gli amici, per i conoscenti, per quelli meno acculturati, case popolari, DMM, quindi Comune di Milano, Beppe Sala e Rabaiotti, eccetera. Allora ci ritroviamo qui con lo solito problema di ogni casa MM, quasi tutte, l'illuminazione a LED, ok, è stata garantita per consumare meno corrente, perché più ecologica, eccetera. Peccato che sia stata sbagliata, secondo noi, secondo tutti, il potere di illuminazione, infatti fuori rimane buio, allora a questo punto lasciamo le spente e risolviamo tutto, così non graviamo sulle bollette condominali. Poi c'è un'altra questione, anche questa ripercorrente in ogni situazione, le antenne paraboliche. Le antenne paraboliche sappiamo che è stata data normativa per metterne una singola gestita dal punto che si occupa delle case, centralizzata per tutti con il cavetto che si infila la spina. Qui invece le troviamo tutte montate così, che possono essere anche montate bene, ma a parte il danno che fanno alla facciata, perché comunque è meno consono rispetto a quello che dovrebbe essere, bisognerebbe vedere se sono certificate, non vorrei che quando c'è qualche botta di vento qualcuna cade e fa male a qualcuno, quindi questa è sempre responsabilità del gestore, ma non è l'unica cosa, ci sono altre cose che andremo a vedere, adesso abbiamo già visto qualche vetrata rotta, eccetera. e andremo poi a chiedere quello che volete sapere tutti, quando si sistemerà, se si sistemerà, che cosa succederà di questi stabili che fino ad ora erano il gioiello della zona. Ripeto, andiamo. Ecco, questo qui c'è stato appena descritto, c'è stato un incidente con una persona che stava transitando qui, ha tirato giù questa situazione qui, non ha comunicato niente e quindi tutto è rimasto così, nessuno si è adebitato colpe, responsabilità, ma soprattutto non è stata rimessa per tutti quegli altri che abitano qui, perché qualcuno può sbagliare, ma non è che devi far subire un torto, un danno, un problema a tutti gli altri. Notiamo però che qui c'è un posteggio moto, allora questo posteggio moto, voi sapete che vediamo tantissime cose, allora questa moto qui, partiamo dalla prima, questa non pone addirittura circolare, anche se ha la targa, perché guardatela, non ha gli specchietti, eccetera, ma c'è un'altra situazione e questa c'era già stata segnalata, perché vi ricordate che c'erano state un po' di situazioni strane fuori dalle poste, eccetera, c'è addirittura una moto ancora più grande senza addirittura la targa, conciata in condizioni pietose, forse la targa può essere quella buttata per terra lì, noi non sappiamo, comunque informiamo chi di dovere e informeremo le forze dell'ordine che sono presenti in questo presidio. Siamo qui con un cittadino che ci deve raccontare qualcosa, sempre nello stabile di Val Bavona. Sebastiano, piacere. Dici tutto. Guardi, le fognature sono una cosa terrificante, nel senso, noi tappiamo tutto, bidet, prima di andare a dormire si tappa il bidet, si tappa il lavandino, si tappa la vasca da bagno, perché se no la mattina uno entra in bagno e gli sembra di entrare in una fogna direttamente. Abbiamo chiamato l'anno scorso, non so dopo quanto tempo, sono usciti quelli degli spurghi, perché c'era il ragazzo del piano terra che da lui era ancora peggio, ovviamente, se io che sono al penultimo piano... C'era la braga rotta. che però sono passati dopo un bel po', non è che è stato lì due giorni, ma delle cose terrificanti. Ma arriviamo a cose più, magari, che si possono sistemare con buona volontà. Parliamo della pattumiera, della raccolta differenziata. Anche qui il nostro amico c'è qualcosa da dire. Sì, noi facciamo la raccolta differenziata sempre, poi vado magari a buttare il vetro e trovo dentro l'umido, vado a buttare l'umido e trovo dentro il vetro, vado a buttare la carta e trovo la plastica. A me non è che mi va bene, io devo pagare le multe degli altri, scusate, adesso. Poi col fatto che sono tutte in comune le pattumiere, sono in comune per 21 scale, come fai a trovarli colpevoli? Ecco, questa è una situazione che era già caduta, dove avevamo trovato poi questa situazione di comodo, che era quella di trovare una persona che controllasse per ogni scala la pattumiera per evitare che succedessero queste cose, che ci sembra una cosa che sta al tempo della Milano 2021, del green, di tutto quello che vuoi, però poi ci dicono che sono metodi per far incassare dei soldi a qualcuno, sembra che ci sia qualcosa che poi per 50 euro alla settimana voglio dire, le multe sono molto più alte. Comunque andiamo avanti, andiamo a vedere ancora qualcosa. E continuiamo, sta calando il sole, forse piove, su Milano siamo a fine giugno, come vedete qui è presente questa rete arancionecche dei cantieri, ci dicono le persone che sono appena andate a fare un'altra cosa, che sono da circa un po' di anni che sono ferme qui, ma allo stesso modo non riusciamo a capire, e qui chiedo al nostro amico Paolo Rusconi con la sua camera di riuscire a zoomare, quella protezione messa sul tetto che mi dicono essere lì anche da un sacco d'anni pure quella e non capirsi a che cosa serve. Ecco, magari un po' di comunicazione in più tra il gestore della casa e i cittadini, gli abitanti, gli assegnatari sarebbe cosa ben gradita. Ma non siamo da soli, oggi siamo con il nostro Frank Diamond, che anche oggi fortunatamente si trova abbastanza in zona. Frank, stiamo vedendo un'altra casa popolare, quella che era il gioiello della zona, come la ritrovi? Beh, sicuramente la situazione non è della migliore, tra l'altro tra tetti che crollano e degrado totale. L'unica cosa che voglio salvare, dai voglio dire qualcosa di positivo, mi piace l'idea che tante persone si siano unite per cercare di combattere appunto per i loro diritti, per quello che non va e metterlo a posto. Speriamo che funzioni. E questo a qualche mese dal rinnovo del sindaco, queste sono case MM, Consiglio Comunale di Milano, sindaco. Vedete un po', andiamo. Siamo in uscita dallo stabile MM che abbiamo visitato, Comune di Milano, siamo qui con il nostro caro amico Gabriele Ghezzi, che voi conoscete molto impegnato sul territorio per tante situazioni ed è presente qui in questo presidio perché le situazioni qui stanno cambiando parecchio da quello che stiamo vedendo oggi. Gabriele, dici qualcosa di qua dentro. Ah beh certo, stanno cambiando in peggio, molto peggio, ma qui è soltanto forse la punta dell'iceberg. Milano ce la stanno raccontando in modo diverso rispetto alla realtà. Milano non è Gaia Aulenti, non è solo il Portello, non è solo il City Life, Milano è anche qui e soprattutto qui e c'è una cattiva volontà nel volere non solo risolvere i problemi, ma anche affrontarli. Quindi c'è una mancanza vera e propria di progettualità rispetto al diritto dell'abitare e anche qui secondo me e anche secondo te perché ci siamo confrontati anche in passato bisogna cambiare anche un po' il linguaggio. Il diritto non può essere rivendicato verso un oggetto come la casa, ma deve esserci un diritto da rivendicare rispetto all'abitare perché oltre alla casa c'è un pianerotolo, ci sono le scale, c'è l'ascensore, ci sono i marciapiedi, c'è un parco, c'è una comunità e questo i nostri amministratori non l'hanno capito e non lo vogliono capire o fingono di non capire. Se hanno trovato le risorse per fare così tanto bene il centro della città con tutto quello che avevo citato prima, non vedo come si possa giustificare la mancanza di fondi per cercare di rimettere a posto queste case e il diritto dell'abitare da confermare rispetto a un progetto di sviluppo urbanistico sostenibile e un governo del territorio equilibrato partendo dai cittadini, anche valutando i comportamenti dei cittadini perché qui le case popolari sono diventate un ricettacolo di gente che non sa cosa neanche vuol dire abitare in una comunità ma usano questi spazi per fare i propri traffici anche illeciti. Abbiamo trovato scooter rubati, bilancini elettronici che pesano sostanze stupefacenti. Non si fanno le torte. Esatto. C'è un problema secondo me che se andiamo avanti così le case popolari in Milano possono diventare un problema di ordine pubblico ed è questo molto grave, molto grave. speriamo che qualcuno si metta le mani sulla coscienza e che le risorse del Recovery Fund arrivino anche in queste zone, altrimenti sarebbe la perdita totale della civiltà milanese. Ecco, allora devo aggiungere una cosa perché sapete che noi non ci paga nessuno quindi diciamo quello che ci pare. Allora, qualche istituzione circa tre anni fa quando andai in via Bolla che non è MM, quindi parliamo di regione Lombardia così spariamo a Parcondicio se no poi sembriamo di parte, mi disse ma queste case sono l'ultima speranza perché dopo di queste rimane solo il ponte e dormire per strada. Ecco, io ti volevo chiedere a te questa cosa cosa ti farebbe venire in mente un'istituzione che ti dice le case popolari sono conciate così, ma è l'ultima speranza, dopo di questa cosa hanno il ponte e la strada? No, 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 è inaccettabile queste considerazioni che non hanno neanche un minimo di sostegno rispetto anche alla morale e all'etica di un amministratore che deve vivere nel territorio. Le risposte vanno date a tutti indifferentemente, certo poi i comportamenti devono essere valutati, però insomma la Milano del Grand Coeur milanese è dove è andata a finire. La Milano delle prossime Olimpiadi? Ma prima delle Olimpiadi ti citerei anche gli scali ferroviari che hanno degli interessi che si avvicinano e si collegano l'uno all'altro. Oh Gabriele, ne abbiamo visti un po' e abbiamo capito bene come funziona la situazione, nelle ultime settimane, negli ultimi anni ne abbiamo visti tre, Porta Romana, Scalofarini, vabbè è la classica centrale, l'abbiamo vista anche quella, è Greco, ma tu sai che queste situazioni di improvvisati mecenati che vogliono risanare la situazione sono sempre più dubbiosi? Guarda, lo dicevo prima, non c'è un progetto, non c'è un governo del territorio, la pianificazione di uno sviluppo urbanistico sostenibile nasconde intrecci di interesse molto particolari, che vanno, ripeto, le prossime elezioni si deciderà chi dovrà gestire tutto quel movimento che parte, movimento finanziario ed economico, che parte dalla riqualificazione degli scali ferroviari alle Olimpiadi, interessi sono alti, importanti e secondo me anche trasversali, serve un sindaco che dia garanzia a tutti, non fatemi dire... No, non vi possiamo suggerire nulla, abbiamo qualche idea, ma va bene, grazie Gabriele, sempre presente sul campo, dal Municipio 6 seguiteci, abbiamo Emanuele Santamato, del Comitato Rinasci Futuro, che è stato con noi a Rogoredo, dove tutti state andando... Ecco, a proposito, un altro scalo, Rogoredo, dove tutti siete andati a vedere negli ultimi mesi la riqualificazione, beh, non è molto funzionata, eh? Andiamo da Emanuele. Siamo in chiusura, cari amici, come vedete in questo fine di giugno, la Milano che non funziona, purtroppo continua a non funzionare, nonostante tanti proclami di tante istituzioni, eccetera, e siamo qui, presentiamo una faccia amica, che è la di Emanuele Santamato, del Comitato Rinasci Futuro, che tutti ricordate per varie iniziative, tra cui quella che mi avete segnalato un paio di volte questa settimana, di quando siamo andati a Cascina, a Palma, a Rogoredo, dove purtroppo a distanza di oltre un anno sta succedendo di nuovo di tutte e di più, perché hanno eliminato la sorveglianza privata. si mette a pezzi la sorveglianza, un po' la sorvegli, un po' no, va bene. Siamo qui, dici qualcosa su questo stabile dell'MM e insomma delle varie iniziative che vuoi proporre. Mi piacerebbe dire qualcosa di nuovo rispetto ai caseggiati popolari, purtroppo ancora ci troviamo a segnalare le stesse situazioni di degrado che troviamo altrove in giro per Milano e siamo oggi qui con gli amici anche dell'Uniat a contribuire, a sollecitare l'opinione generale su questi argomenti. Degrado dappertutto, situazioni di strutture fatiscenti, servizi praticamente assenti e anche abusivismo diffuso. Quindi insomma c'è tutto il cocktail, comprese poi le lettere che arrivano per chiedere spese e invece non ti danno le causali di queste spese. Quindi insomma a fronte di questo degrado il cittadino poi si trova pure a dover subire anche la beffa. Noi come sempre siamo insieme ai cittadini che si scoprono il vero lato della città e lo segnalano. Confidiamo di avere sempre più consenso e più vicinanza da parte dei nostri concittadini. Ecco, ultima battuta in chiusura, questo era un gioiello del Municipio 6. Diciamo che questo gioiello non scintilla più tanto come era una volta, però abbiamo tanti assegnatari, tanti cittadini che non cedono a questo degrado che porta picco. E ultima battuta, Ema Sant'Amato. Se volete contattarlo, vi diamo direttamente, ve lo dice lui direttamente il suo riferimento, così non mi scrivete 500 mail perché non faccio gente per rispondere a tutte. Va bene, non mi potete contattare, Ema Nuel.Sant'Amato.it Mi potete scrivere. Perfetto, per oggi abbiamo finito, salutiamo Friend Diamond, salutiamo Paolo Rusconi, Gabriele Ghezzi, Fausto Montrone, tutti i partecipanti. e seguiteci e mi raccomando date forza a questa causa perché se lo merita alla prossima City Report